Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, anche Bonaccini, uno dei presidenti definiti rossi, presidente dell'Emilia Romagna, dice no ai CPR, no ai clandestini, quindi a sinistra sono tutti love, 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 facciamo entrare tutti, ma non a casa mia, neanche vicino, li voglio vedere. Ipocrisia, caspeterina, è che l'abbiamo scoperto adesso che i sinistri fanno così. Sì, facciamoli entrare, ma non li voglio neanche vedere, chiaro, no? Facciamo entrare tutti, ma lontano da me. Questo è il ragionamento classico, che non è nuovo, ecco. Il governatore dell'Emilia Romagna dice ho chiesto un incontro a piante, dosi, attendo ancora risposta, attendere, prego. Per ora dal governo solo parole al vento. Emiliano dice disastro governo, ma Puglia disponibile. Quindi i governatori delle diverse regioni reagiscono al piano del governo, che il governo vuole costruire i nuovi CPR, centri di permanenza per i rimpatri. Questo centro di permanenza è obbligatorio, è un centro di detenzione, è un carcere. Centro di permanenza per rimpatri. Ma è volontario? È un centro di accoglienza volontario dove vado lì a dormire la sera? No. Centro di permanenza per i rimpatri è un campo di concentramento. Eh sì, si chiamano così. È un campo di detenzione e smestamento. Comunque, è quello che è, lo sappiamo tutti, inutile girarci intorno. Ma le regioni non li vogliono questi campi, questi centri, chiamiamoli in maniera più elegante, centri di permanenza per i rimpatri, che abbiamo visto in televisione prima dell'estate, dei veri e propri carceri, anzi forse peggio di un carcere. I centri sono attualmente dieci, Milano, Gradisca, Disonzo, Roma, Macommer, Bari, Brindisi, Potenza, Trapani, Caltanissetta e Torino. Torino è attualmente chiuso. E sono distribuiti in Piemonte, Lombardia, Friuli, Venezia e Giulia, Lazio, Sardegna, Puglia, Basilicata e Sicilia. Se voi vedete non ci sono in Toscana e in Emilia Romagna. Il governo dice, adesso li mettiamo in tutte le regioni, e i governatori rossi dicono metteteli dove volete, ma qua no. Perché? Perché no. Ma perché no? No e basta. Non siamo disponibili a nulla se parliamo di parole al vento. Io sono abituato a discutere di cosa si vuole fare, dice Bonaccini a Radio 24. Beh, su cosa si vuole fare te l'ha detto il governo? Aprire un centro, come lo chiamano, di permanenza per rimpatri in Emilia Romagna. Una specie di carcere per migranti. Perché non lo vuoi, Bonaccini? Perché Stefano? Stefano, dimmelo tu, dimmelo in un orecchio. Perché non li vuoi, Stefano? Eh? Stefano, dai, su, Stefano, eh? Perché mi dici? Sono abituato a discutere di cosa si vuole fare. E te l'ha detto. Vogliamo aprire un CPR in Emilia Romagna. Centro di permanenza per i rimpatri. Quindi un centro di detenzione di 18 mesi per i migranti per poi rimpatriarli. Quindi te l'hanno detto. Perché dici che non te l'hanno detto? Te l'hanno detto cosa vogliono fare. Dice, ma questo è il governo che parla di autonomia. Ma cosa c'entra, Bonaccini? Ma cosa c'entra l'autonomia? E questo governo sta invece centralizzando tutte le decisioni a Roma senza confronto con gli enti locali. Eh, si chiama governo del paese, i centri di comando e di controllo sono a Roma, i quartieri governativi sono a Roma, i comandi delle forze armate sono a Roma, il governo è a Roma, il Parlamento è a Roma. Quindi, caro Stefano Bonaccini, tu dici, decidono tutto a Roma. Eh, è il governo del paese, decidono tutto a Roma. O vuoi come Landini che telefonano anche a te? A te, Landini. Insomma, dovete fare quello per cui siete pagati. Tu fai il presidente di regione, stai lì in Emilia Romagna e fai il presidente di regione. A Roma decidono il governo del paese. E' chiaro Stefano? Eh, casomai te lo posso dire anche per telefono. E poi dice, i CPR al momento sono parole al vento. Beh, insomma, cosa vuol dire parole al vento? Il governo dice, costruiamo un CPR in Emilia Romagna e tu sono parole al vento? No! Ti stanno dicendo, costruiamo un CPR in Emilia Romagna. Cosa c'entra le parole al vento? Cosa vuol dire? Non lo sa neanche lui. Parole al vento. Per me di CPR non se ne parla assolutamente. Perché Stefano ha pienamente fallito il governo alla gestione degli arrivi e l'oro di ridistribuzione di migranti. E anche molti sindaci di centrodestra stanno dicendo che così non può funzionare. E allora come funziona Stefano? Dimetticelo tu come funziona. Ho chiesto un incontro a piante e dosi ancora senza risposta. Se il governo decide di fare tutto a Roma, se ne assumeranno le responsabilità. Eh, sì, l'hanno eletti e decidono tutto a Roma. E se ne assumono le responsabilità, caro Stefano. Funziona così la vita. Se tu eri premier decidevi tu. Il premier alla Meloni decide la Meloni. Se ti vuole fare un CPR di fronte a casa te lo fa. Eh, non ti piacerebbe Stefano un bel CPR di fronte a casa? Col filo spinato, le torrette, le luci. Actun, actun. Eh, non ti piacerebbe un bel CPR? Un centro di smistamento, rimpatri, come cavolo si chiama? Non ti piacerebbe Bonaccini sto centro? Actun, actun. Eh? Con le luci e i cani. Non ti piacerebbe un bel CPR fronte a casa? Caro il mio Stefano, non lo vuoi in Emilia-Romagna? Perché Emilia-Romagna è solo love, love, love. Ma i CPR c'erano anche con la tua sinistra, eh? È dieci anni che la sinistra governa e ci sono i CPR in Italia. Ah, ma non c'era in Emilia-Romagna? Perché i clandestini vanno bene però lontani? Ah, sta roba l'ho già sentita dai sinistri, eh? Facciamo entrare tutti, ma in Sicilia però, eh? Teneteli in Sicilia, in Calabria. Non me li mandate in Emilia-Romagna perché noi... Poi arrivano da soli camminando, ovviamente. Mentre il governatore pugliese, Michele Emiliano, dice io delle politiche migratorie del governo penso, come tutti gli italiani, che siano un disastro, però non è il momento di dare giudizio. Se il governo ha bisogno della Puglia bussa, chiede e la Puglia è a disposizione. Cioè, Michele Emiliano dice il governo ha fallito, vogliono fare un CPR qui. E lo facciano, che me ne frega a me. Questo è... Ma naturalmente Bonaccini fa l'ideologico. Bonaccini l'ideologico dice no, no il CPR qui. E l'altro, Michele Emiliano, dice ma è fallo, che me ne frega a me. Cioè, dormo lo stesso se mi fai in Puglia questo carcere qui. Ma che me frega a me, dice Michele Emiliano. Mentre l'altro fa il fazioso, ideologico, rancoroso, livoroso. Eh, vabbè, insomma. Lui era il candidato segretario del PD. Bonaccini, non l'hai capito che non ti hanno fatto segretario perché sei amico di Renzi e lo faresti rientrare. È tutto lì. Hanno messo la Schlein, non perché è meglio di te. Perché, insomma, meglio della Schlein, qualunque politico anche di periferia, qualunque politico anche del paesino sul cucuzzolo della montagna è meglio della Schlein. Arrivederci a tutti e grazie. 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 Grazie.